Impara l'italiano con Omnom! Ciao Omnom! Come stai oggi? Diamo un'occhiata e vediamo che cosa c'è qui sotto! Una torta! Io adoro le torte di compleanno! Ma Omnom, mi spiace! Le torte non sono molto sane! Non ci pensare! Vediamo cosa c'è ora! Una mela! Una succosa mela rossa! Le mele fanno molto, molto bene Omnom! Non preoccuparti, la potrai assaggiare più tardi! Intanto mettiamola nel cestino! Molto bene! Vediamo cosa c'è ora! Un cheeseburger! Io adoro i cheeseburger, ma in realtà non sono molto salutari! Mi spiace Omnom! Deve andare con la torta! Proviamo di nuovo! Broccoli! Oh, guarda Omnom! Ha il tuo stesso colore! Si può fare una deliziosa crema! Oh, guarda! È come un alberello! Ok! Che c'è ora? Pizza! Io amo la pizza ed è davvero un ottimo piatto italiano! Ma anche questa non fa molto bene Omnom! Mi spiace! Deve andare nel cestino del cibo non sano! Ok! Ancora uno! Spinaci! Gli spinaci Omnom sono davvero ottimi! E anche loro hanno il tuo stesso colore! Il verde deve essere un colore davvero sano! Bene! Che cestino dovremmo provare? Sono affamata! Non sano! Sano! Non sano! Sano! Ottima scelta Omnom! Ciao Omnom! Come va oggi? Mi sembra ti stia divertendo! Cosa sono quelli? Sono forse coni gelato? Oh! Sembra provare una palla da calcio! Non trovi Omnom? Una pallina di gelato blu! Rosa! Uno! Due! Due! Due palline di gelato rosa! Uno! Due! Tre! Tre palline di gelato gialle! Il mio colore preferito! Omnom! Dove vai? Uno! Due! Tre! Quattro! Quattro palline di gelato viola! Omnom! Torna indietro! Guarda! Alto stesso colore! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Cinque palline di gelato verdi come Omnom! Non sono molto sicura tutti ci possa arrampicare Omnom! Ciao Omnom! Come stai oggi? Che succede? Ho un gioco! Impara i cinque sensi! Sì! Iniziamo! Wow! Una caramella! Oh ma è la tua preferita! Lo so che ami le caramelle! Giochiamo! Io gusto la mia caramella con le mie... Mani? No! Non con le mani! Con la mia... Lingua? Sì! Giusto! Noi gustiamo il cibo con la lingua! Omnom! Prova proprio adesso! Sapevo che non potevi resistere! Oh che bella giornata per una passeggiata! E guarda! Un arcobaleno! Io vedo l'arcobaleno con il mio... Naso? No! Non è corretto! Vedo un arcobaleno con la mia... Lingua? No! Con i miei occhi! Giusto! Noi vediamo con gli occhi! Sì! Oh! Omnom sta facendo un lavoretto d'arte! Oh! Ma la colla è finita! E anche Omnelli! Ma senti! La campanella sta suonando! Io sento la campanella con le mie... Mani? No! Io sento la campanella con la mia... Lingua? No! E perché non con le mie... Orecchie? Sì! Giusto! Noi sentiamo con le orecchie! E Omnelli ha sentito la campanella! Lezione è finita! Che bel disegno! Oh! Gelatina! Gelatina blu oddeggiante! Attento Omnom! Tu ami la gelatina, vero? Ha un buon odore! Mi chiedo a che gusto sarà! Io tocco la gelatina con il mio... Naso? No! Con i miei... Occhi? No! Non tocco con gli occhi! Tocco con le mani! Sì! Ottimo lavoro! Coraggio Omnom! So che la vuoi! Sei diventato blu come la gelatina! Ti dona! Oh! Sei in camera da letto ora! È un profumo? Sono sicura che è buonissimo! Io annuso il profumo con le mie... Mani? No! Con... La mia lingua? Oh no! Con... Il mio naso! Sì! Esatto! Io annuso con il naso! Ed è buonissimo! Sa di far fan e fiori! È stato divertente! Omnom! Ciao! Oh! Guarda! C'è Omnom! Ciao Omnom! Oh! Attento! Una matita! Mi chiedo cosa disegnerà! Avete qualche idea, bambini? Sembrano delle fondamenta! Un tetto! Oh! Un attico! Con la finestra triangolo! Una finestra rettangolare lì sotto! Una porta! Un'altra finestra rettangolare! Qualche gradino! E un caminetto! Sì! La matita sta disegnando una casa! Wow Omnom! Non è bellissima! Però sembra incompleta! Cosa possiamo fare? Pensa Omnom! Pensa! Sì! Costruiamo la casa! Per prima cosa, aggiungiamo le fondamenta! Poi, i gradini! Sì! Facciamo i muri! Wow! E ora per il tetto! Mettiamo le tegole! Yay! E non dimentichiamo le finestre! Prima, quelle del lattico! Oh, il caminetto! E ora, le altre due finestre! E non dimentichiamoci della porta! Perfetto! Sì! È bellissima! Omnom! Mi piace tanto! Oh! Manca qualcos'altro! Nel giardino! Che cos'è? Sì! Un albero! Aggiungiamolo sulla destra! Perfetto! E anche delle siepi! Sì! La nostra foto è completa adesso! Ciao! Ciao, Omnom! Oh, c'è anche Omnelli! Omnelli è la fidanzata di Omnom! Amano sorprendersi con dei gustosi dolcetti! Si amano così tanto! Cosa sta cuocendo qui? Vai a rilassarti, Omnelli! Se ne occupa Omnom, non è vero? Omnom sta facendo delle caramelle per Omnelli! Lei le adorerà! Oh, eccola che arriva! Ok, niente panico, Omnelli! Lui pulirà? Guarda, sono bellissime, vero? Non ti ricordano la prima volta che l'hai incontrato? Omnom lavorava alla caffetteria all'Omcittà! Stava pulendo dei bicchieri e Omnelli è entrata! Indossava un cappello viola! Lui ha pensato che lei fosse il mostro più bello che lui avesse mai visto! Anche Omnelli ha pensato che Omnom fosse carino! Ha sorriso e ha sbattuto le palpebre! Subito lui l'ha fatta entrare, dandole il benvenuto e l'ha fatta sedere a un tavolo! Ha accompagnato la sedia come un vero gentiluomo! Ma forse è un po' troppo distante E... lei è caduta sul po' di tutto! Forza, Omnom! Spingi la sedia! È ok, forse non così tanto! Penso che Omnom sia un po' emozionato, e tu? Ecco il menu! Allora, cosa sceglierà? Questo? Ok! Coraggio, Omnom! Era così nervoso! Le sue mani tremavano così tanto che ha accidentalmente fatto cadere la limonata su tutto il tavolo! Senza pensare, ha preso il cappello di lei e l'ha usato per asciugare la limonata! Non realizzando che era il suo cappello preferito! Tutto quello che sapeva era che voleva impressionarla! Così ha tirato fuori tutti gli ingredienti più dolci che ha riuscito a trovare! E ha fatto una bellissima sorpresa! Il più grande e miglior dessert di sempre! Lei era davvero impressionata! E' così buono che lei ha persino dimenticato il suo cappello bagnato! Omnom ce l'ha fatta! Omnom ha salvato la giornata con il suo dessert! E loro sono fidanzati da allora! E ora Omnom sta salvando la giornata di nuovo con le sue caramelle! Bravo Omnom! Wow! Guarda che bello scenario! È così innevato! E guarda le montagne! Slittiamo sulla neve! Oh, è Omnom! Oh, è Omnom! E anche Omnelli! Non preoccuparti Omnom! So che è lunga, ma andrà tutto bene! Omnelli è qui per aiutarti! Dobbiamo fidarci dei nostri amici! Andiamo! Sììì! Non preoccuparti Omnom! Su di qua! Potete aiutarvi e divertirvi! E giù dalla pista lunga! Su e giù! E attraverso la pila di neve! Oh, un pupazzo di neve! beve! Oh no! Sono Omnom e Omnelli! Vedi Omnom è così divertente! E non vi siete fatti male! Vuoi farlo ancora? Magari dopo! Ciao a presto! Ciao Omnom! Che fai? Oh stai facendo dolcetto scherzetto! Bussiamo a questa porta! Guarda si è aperta! E guarda dentro! Così tanti tesori! Giochiamo a trova gli oggetti con Omnom! Riesci a trovare un forziere del tesoro aperto? Eccolo! Sulla cima! Benissimo! Poi troviamo un candelabro! È qui? No! Forse qui in alto? No! Eccolo! Con tre candele! Riesci a trovare una candea da sola? Dove potrebbe essere? È qui? No! È qui! Sul muro! Ottimo lavoro! Ultimo ma non meno importante! Riesci a trovare il calderone? Oh sì! Lo vedo! Giusto! È proprio al centro! Sul fuoco! Mi chiedo cosa stia cuocendo! Qualunque cosa sia penso che Omnom ne stia mangiando un po'! Omnom! Guarda! Una gelatina! Wow! Budino! Sì! Oh oh! È mezzanotte! Sai che significa? Tutte le luci si spengono! Attento! Attento Omnom! Il budino sta crescendo! Oh no! Sta diventando un uomo di gelatina! Corri Omnom! Giochiamo ancora a trova l'oggetto! Abbiamo un pipistrello! Riesci a trovarlo? No, non lì! No, neanche lì! Sì! È lì in cima! Sulla destra! Bravi! Riesci a trovare un cappello da strega appuntito? No, lì no! È forse nell'angolo in basso a sinistra? Sì! Sulla zucca! Riesci a trovare la faccia di fantasma? È lì che fende dalla lanterna! E per ultimo abbiamo un ragno! Sarà lì? No! È vicino alla scopa! Eccellente! Ce l'avete fatta! Attento Omnom! L'uomo di gelatina ti prende! Ma guarda! Si rimpicciolisce di nuovo! Penso che questo cappello sia della dimensione giusta per te! Ecco! Puoi mangiare il budino finalmente! Ciao Omnom! Ciao Omnom! Come stai oggi? Oh! Quello è un cappello particolare! È enorme! È un sombrero! Giusto! Che bel cappello Omnom! È un cappello di conchiglie! Dove stai Omnom? Sembri su una spiaggia! Che cappello perfetto per una spiaggia! Oh! È Omnelli! Come stai? Che bel cappello! È come una corona o una tiara! Brillante! Chi indossa il cappello? Omnom o Omnelli? Giusto! È Omnelli! Che bel cappello viola! Come le sedie e le tende! Oh! Sembra che Omnelli voglia fare la detective! Indossa un cappello marrone da detective! Interessante! Wow! Cos'è quello Omnom? Ha un cappello blu! È un cappello da supereroe? Oh! Il mio eroe! Oh! Cosa succede ora? Indossi un cappello da illusionista! Farei uno spettacolo di magia? Emozionante! Tadà! È un uovo! Oh wow! È nato un polcino da sotto il cappello! Ciao ciao! Ciao Omnom! Come stai oggi? Oh! Un campo di carote! Amo le carote! Le raccogliamo? Uno, due, tre, oh! Che succede? Omnom! Dove stanno andando? Oh no! Veloce! Prendile prima che spariscano tutte! Veloce Omnom! Prendile! Dove stanno andando? Guarda! Ne è rimasta una! Magari riesci a prenderla! Tira Omnom! Tira! Oh! Chi è questo? Una talpa? Una talpa ha preso tutte le carote! Guarda Omnom! Meglio che vai a cercarle! Troviamole! La talpa sta scappando con le carote! Veloce! Prendile! Oh! È un vicolo cieco! Veloce! Torna indietro! Giusto! Segui il tunnel! Ce la puoi fare Omnom! Sì! Bravo! È giù! Eccole! Finalmente le hai trovate! Lo so! Sono bellissime! Ma guarda! Che è questo? Una baby talpa! Oh! Che piange! Deve essere affamata! Omnom! Perché non condividi? Giusto! Bravissimo! Ottimo Omnom! È così gentile da parte tua a condividere le carote! Guarda! Sono tutti felici ora! E anche tu! Condividere è così bello! Ciao Omnom! Come stai oggi? Che bella giornata di sole sulla spiaggia! Oh! Un dolcetto! Omnom sembra così felice oggi! Ti piace viaggiare, vero? Trovare dolci diversi in ogni paese è così divertente! Dove andremo per prima cosa? Dove ti trovi Omnom? È in Messico! Un paese in Nord America! È assolato e caldo qui! Ecco perché Omnom indossa un sombrero! Cos'è questo profumo? Sembra delizioso! Da dove arriva? Un chiosco! Seguiamolo! Oh! Veloce! Il vento porta via il tuo cappello! Ops! Pazienza! Almeno tu non sei volato via! Cosa sta cuocendo? Buono! Sono i ciurros! Un dolce messicano fatto di pasta fritta nell'olio! E con zucchero e cannella! Miam miam! Dove andremo poi? Dove vai con la tua bicicletta? Sei a Parigi! In Francia! La Francia è un paese in Europa e Parigi è la capitale! Cosa abbiamo qui? Un cestino da picnic! Oh! Cos'è questo? Dov'è finito? Veloce! È una gara di bici! Corri a prendere il tuo cesto Omnom! Veloce! Aprila! Più veloce! Finalmente! Più veloce che puoi Omnom! Ce la puoi fare! Ci sei quasi! Oh no! Va ancora più veloce ora Omnom! Stai superando tutti! Sei il vincitore! E hai trovato il cestino! Ma cosa c'è dentro? Un croissant! Una buonissima sfoglia francese! E ora andiamo in Giappone! È un paese in Asia! Fantastico! Questo è il maestro di Omnom! Gli insegnerà arti marziali! È un esperto di karate! Omnom ama il karate! Forza Omnom! Ce la puoi fare! Coraggio! Coraggio! Oh! Beh! Ottimo tentativo in ogni caso! Proviamo questo! Nunchaku! Wow! Fantastico! Sì! Ottimo tentativo! Prova ancora! Attenzione però! Riesci a rompere i bastoni? È un metodo anche questo! Bravo Omnom! Hai fatto ridere il maestro! Ti meriti un dolcetto! Wow! È un wagashi! È un dolce giapponese fatto con la farina di riso e zucchero! Oh! È così carino da parte tua dividerlo in due e condividerlo! Bravo Omnom! È stato così divertente! Vero Omnom? Hai viaggiato in tutti questi paesi e scoperto i dolci! Hai pure potuto mangiarli! Non vedo l'ora di andare in altri paesi e trovare altri dolci! Fino ad allora ciao! Ciao! Sono Omnom e Omnelli! Sono a casa oggi perché casa è dove ci si diverte e amano farsi gli scherzi e giocare a prendere! È così divertente stare a casa e ci sono così tante cose da fare! Ad esempio Omnelli ama guardare la TV! Le piacciono i programmi divertenti e i suoi cartoni preferiti! Ma non devi guardare la TV tutto il giorno! Non fa bene! Ci sono così tante altre attività che possiamo fare! Ad esempio allenarsi! Omnom fa i suoi esercizi giornalieri! Fa molto bene alla salute! Lui fa i pesi corre si arrampica sulle scale fa così bene anche alla mente! Ti sveglia e ti rende felice! Che altro possiamo fare Omnom? Ottima idea! Omnelli ama leggere grandi libri! Anche Omnom ama leggere! Gli piacciono i libri comici! Che tipo di libri vi piacciono? Leggere è ottimo! Che altro possiamo fare Omnom? Ottima idea! Possiamo cantare! Perché no? Omnelli ama cantare a casa lei può cantare tutto il giorno le sue canzoni preferite e Omnom può anche ballare! Pensiamo ad altre attività divertenti da fare a casa perché non... Perché non... Oh sì, lo so! Possiamo fare dei giochi al computer! Omnom ama i giochi al computer! Ma non fa tanto bene giocare troppo! Pensiamo anche a qualcos'altro! Sì, lavoretti d'arte! Un'ottima cosa da fare! Fantastico! Guarda, Omnom sta creando qualcosa! Chissà cos'è! Un cuore! Oh, e guarda! Della colla! Sta incollando il cuore sul foglio! Oh, un po' di glitter! E lo raggiunge anche Omnelli! I lavoretti d'arte sono così divertenti da fare da soli o con un amico! Allora, esercizio, lettura, ballo e lavoretti artistici sono alcune cose divertenti che puoi fare a casa! Ciao! Ciao Omnom! Oh, attento! Guarda! È un gioco! Vuoi giocare? Sì? Fantastico! Si chiama Trova l'intruso! Sì! Iniziamo con la linea di oggetti più in alto! Riesci a trovare l'intruso? Vediamo! Per prima cosa abbiamo una melanzana poi una carota un peperone verde e dell'uva! Qual è l'intruso? Giusto! È l'uva! Perché l'uva è un frutto mentre gli altri sono verdure! Yeeey! La seconda linea! Cosa abbiamo? Formaggio una pera un'arancia e una mela! Sì! Il formaggio è l'intruso perché non è un frutto! Bravo Omnom! Andiamo avanti! Abbiamo una fragola una barbabietola una rafa e un peperone verde! Giusto! La fragola è l'intruso! Sapete dirmi perché? Giusto! La fragola è un frutto e le altre sono verdure! Sì! Ultimo, ma non meno importante la linea in basso Abbiamo dell'uva una mela una ciambella e un'arancia! Sì! La ciambella è l'intruso! Perché è un dolcetto e non un frutto! Sì! Omnom è affamato dopo aver guardato tutto questo cibo! Ciao! Ciao! Il formaggio Origano Basilico Oh che bontà! Vorresti una fetta di torta una deliziosa torta Sì! Sì! Mettiamo in forno la torta con la glassa e la crema! Cioccolato una ciliegia Oh che sogno! Ehm! Mettiamo in forno